E' già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, ci vuole abilità, e' già. Il freddo quando arriva poi va via, il tempo di inventarsi un'altra diavoleria, e' già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua, e non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare, e', col cuore che basta e' più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, Con l'anima che si pende, metà e metà, con l'aria e col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio e l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua E' già, e' già, io sono ancora qua E' già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia, e' allora che si fa? E' già, e' già, riprenditi la vita che vuoi tu, io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su. E per France Bike Avventura manca un partito e' già muo furato. E' una supposta per la telecamera. E' una supposta. Prego, si pieghi. Ecco il buon Francesco, il nostro meccanico del gruppo. Autoproclamato si, meccanico del gruppo. E' un po' di scatole che hanno rotto abbondantemente le scatole. E' un po' di scatole che erano già rotte. E' un po' di scatole che erano già rotte. E' un po' di scatole che erano già rotte. No, ma bisogna essere obiettivi. C'è le scatole che erano rotte. E' un po' di scatole che erano rotte. E' un po' di scatole. Dunque, sono le 7.20 del mattino. E' il nostro caffè. Stamattina. Signor consigliere, cancelliere. Si prospetta. Pensavo che fosse la ruota. Scusate, se qualcuno ha bisogno di... Come si chiama questo? Cameradaria. Qua è questa camera d'aria, anche se è fuorata, può essere utilizzata per tante cose. Cintura. Cintura. Cintura di French Bike. Massimo 52 di taglia. Può essere utilizzata come tracolla, se per caso dovete vedere un'altra cosa. Portare una borsa. Prendete qua. Attenzione, quando la utilizzate, perché c'è qui una cosa in metallo, potrei voler dare fattiglia. Certo, della misura a noi non dà fattiglia. E non provate a fare questo gesto, perché non si vuole fattiglia. Però fischia, no? Potrebbe essere usata come fischietto una partita di basket, magari. Adesso gli diamo una pompatina. Una pompatina. Giusto per... Giusto per dire... Ma ma... Quindi, apprezzate la tecnica di riparazione. Una volta dato 3-4 pompate, giusto per riscaldare l'ambiente, si chiude il valvolino. Si chiude il valvolino. Si mette il valvolino nel buco. Nel buco presente. Dove c'è un buco bisogna tapparlo. C'è un buco lì. Diciamo che è una regola naturale. Questo si chiama il pertugio. Il pertugio. Certo, certo. C'è un buco. Va inserito prima il valvolino nel buco. Non si è notato, però Francesco, prima con la mano... Ci potrebbe essere qualcuno, qualche soggetto particolare che ce l'ha in una forma un po' strana. Questo può essere tutto. Ti aspetto una testata nel... Lo puoi usare anche. Sicuramente. Questa vuoi da capire di essere riguido. No, allora è ricco caspaccia. Tu vuoi? Ma 700 vuole, no? E tu, io te l'ho dato. Non più. Chiusura evitare l'izione. La sound. Va inside un bar. Ma solo con la mano. C'è un buco. Ma scritto che la tua è una specorgia. Fondre di Network. Questa. Questa. Some vibrazione bagervazione app него. Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti